Buongiorno a tutti, tutti qua che riconoscono che mi si chiama Jessica. Io già con l'Idele da 2004, quella da 2004 noi abbiamo già fatto tanti battagli insieme. Noi oggi non c'è lavoro, perché tu non c'è lavoro, tu non c'è vita. Quando si chiama te vieni e diamo chopere, diamo qua, diamo là, non sei indietro, bisogna vieni. Perché quando tu vieni, tu porta qualcosa a casa, con te anche tu amici, anche tu famiglia. Perché tu, questa lingua, tu non capisci, come io, quando arrivate qua io non capisci niente lingua. Però piano 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 io vieni in Unioni, vieni in Manifestioni, e là piano piano io capisci, capisci destra, capisci sinistra. Fini oggi, da 10 anni io c'è l'Italiano. Io non vieni in Manifestioni, io ho trovato i Zieli, io non c'è niente, io ho ancora la terra. Però io ho venito, io ho trovato loro, tu sta a casa, tu non trovi loro, però tu bisogna vieni fuori. Quando tu vieni fuori, là tu trovi loro, perché loro non riconoscono dove tu abitai. Però quando tu vieni fuori, là tu trovi loro, bisogna vieni fuori. Quando c'è Manifestioni, dici tu amici. Dici, anche noi vai chiesa, dici chiesa, solere di chiesa, fratelli di chiesa, vieni fai Manifestioni. Perché Manifestioni, se c'è Manifestioni, noi non va avanti, bisogna fai Manifestioni. Tu non combatti, non vieni. Tu bisogna combatti, e là tu vieni. Come io dove io lavoro, quando noi sali, anni fa, quattro ora tu non vieni fuori. Tu bisogna stela, tu non vai bai, tu non vai, tu non posso sposta. E così, il capo, capa, chiama tu nome, bisogna prendi tutto, bisogna prendi tutto. Però oggi, noi troviamo l'idea, noi comandiamo loro. Cosa noi bisogna loro fare? Loro lo fare, loro lo fare, bisogna bloca tutto. E mio collega qua, a mondo, lui riconosce me da 2012, il mio posto lavoro. Lui riconosce me. Quando io parla, e mio padre fosse, mio azienda, si chiama Fontana, lui capisci, bisogna moli felicità. Perché quando lui chiede l'area, bisogna bloca. Quando bloca le prodigioni, il padrone capisci, c'è un problema. Perché quando tu bloca le prodigioni, e là tu trova loro sedere. Senza non bloca le prodigioni, tu non trova niente. Ho capisci? E bisogna venire fuori, e mie amici, e mie amici, e mie amici di africano, di tutti, anche noi, noi africano, ne capisci? Noi venito in modo di, in modo povertà. Però, noi venito, c'è c'è ancora un futuro. Noi bisogna trovare quella nuova futuro. Perché quando tu non vai combattere, tu non trova un nuovo futuro. Senza combattere, you don't fight. If you don't fight, you will not win. You have to fight. You have to. Senza combattere, non vincere. E là, quando tu combattere, e là tu capisci? E tempo di combattere, e tu capisci? E qua che hai, e cuba, e qua che hai, e mutaia, e che hai qua così. E là tu, sposta bene, bisogna combattere. Senza combattere, non vincere. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.